La queer è essenzialmente apertura mentale, indipendenza di pensiero, cambiamento degli orizzonti e tentativo di incidere con il cinema nella vita delle persone. L'idea è quella che il cinema può veramente da arte popolare per eccellenza parlare a tutti, parlare in modo diretto, parlare in modo sincero, colpire le persone e riuscire a farci vedere cose che non conoscevamo. Dunque la cittadinanza ha risposto penso abbastanza bene, siamo molto contenti di aver fatto questa sfida, portare il Festival ai Cantieri Culturali della Zisa non era scontato perché sono stati abbandonati per dieci anni e perché la ripresa è lenta e però appunto pensiamo che un'associazione culturale come quella che dà il via al Festival, che già lavora tutto l'anno su un luogo come il Cinema de Seta e come i Cantieri Culturali della della Zisa, insomma fosse quasi un obbligo morale quello di contribuire alla riscoperta di questo luogo. Assolutamente oltre alla comunità GLBT perché questo è un festival che tratta le tematiche GLBT in modo molto aperto, appunto con uno sguardo indipendente, con uno sguardo verso il cinema di qualità e con uno sguardo verso quello che è il presente cinematografico in tutto il mondo, verso quello che è il passato cinematografico nelle sezioni di storia del cinema di cui ad esempio oggi vedremo due appuntamenti. Nella giornata conclusiva vedremo alle quattro e mezza pane e cioccolata di Franco Brusati, tra l'altro l'ingresso libero e poi l'homme blessé di Patrice Cherot che fa parte della sezione che abbiamo intitolato un grande critico francese che si chiama Serge Danet. Il messaggio politico del festival è che è un messaggio politico in senso ampio naturalmente, è un messaggio che i diritti delle persone GLBT non riguardano soltanto le persone GLBT ma riguardano tutti noi, è un messaggio che guarda appunto alla costruzione di una società più giusta, alla costruzione di una società più aperta, alla costruzione di una società in cui tutti siamo diversi e dunque nessuno sia diverso. Noi vogliamo assolutamente che il cinema di setta diventi un punto di riferimento per tutti, che sia conosciuto da tutti come i cantieri, come tutti i cantieri. Il Sicilia Queer è un progetto che dura tutto un anno, noi facciamo attività adesso finiamo l'11 giugno, cioè oggi finiamo ma riprendiamo immediatamente a lavorare per l'anno prossimo e come sempre faremo da settembre attività tutto l'anno non soltanto nel campo del cinema ma anche della formazione, del teatro, della musica.